le regole del gioco ma perchè vuole cantare in continuazione è uguale, è stata persona questa questo è più vasco forse la nanini è quella che ha subito c'è quell'afasia tipica quella raceda questa tislalia il cuore in gola ma che cos'è? sopiamelo voglio vedere quando si fomenta quando parte il ritornello perché secondo me quando il ritornello i colori perché non te ne vai dentro un dammuso la pantelleria ma senti le parole senti le parole stai un attimo stavolta è meglio star zitti invece che dire cavolare si me fai il ritornello me lo fai me prendi la terza mi prendi la terza poi mi costringe a chiedere il bis vai guardo il playback vai notti magiche quant'è una siena questa ma andiamo andiamo la prima di Roma Siena pure domani ricordate cosa è che fare? Riccardo Fogli guarda ovviamente storie di tutti i giorni di tutta la canzone l'unica cosa che ha fatto è mettere io veramente vabbè senti oggi si compie gli anni Pato Aguilera no ti ricordi quando stavate in sera facevate qui i ciri stasera è una bella festa stasera è una bella festa ti piace pure Muzzi io voglio fare pure Muzzi io gli faccio oh Pato Aguilera che bella coppia con Thomas Curavi il vichingo questo vichingo vichingo il ciego slovacco vichingo lo chiamavano il vichingo per i suoi capelli di un uggio no no ma è vero è da Stoccolno in effetti Nino c'è il TG Nino allora è vero voglio ricordare